è un fatto innegabile che i cani non siano amati da tutti. Tuttavia, la bellezza di questa situazione, così come in mille altre, risiede nella possibilità di cambiare idea. Molte persone che in passato hanno dichiarato di non apprezzare i cani, alla fine capiscono quanto siano meravigliose queste creature. Oggi voglio condividere con voi un evento che ha portato un'anziana signora, inizialmente scettica verso i cani, a innamorarsene perdutamente e ad essere infinitamente grata ad uno di loro. La storia si svolge in Svezia, dove un uomo di nome Arjanit Meana è il felice papà umano di un adorabile pitbull di nome Simba. Simba è conosciuto per la sua dolcezza e socievolezza, che lo rendono molto amato da molti. Tuttavia, una sua anziana vicina di casa non riusciva ad accettare la sua presenza. Più volte aveva chiesto a Meana di liberarsi del suo cucciolo, sostenendo che Simba fosse troppo pericoloso. Ma tutto cambia in una giornata che sembrava del tutto normale. Arjanit Meana e Simba stavano tornando a casa quando il cane cominciò ad abbaiare insistente di fronte alla porta dell'anziana vicina di Fidente. Meana decise di avvicinarsi e udì dei deboli lamenti provenire dall'interno della casa, così chiamò subito l'ambulanza. Quando i soccorritori arrivarono, scoprirono che l'anziana signora era caduta e si era rotta l'anca. Non era in grado di alzarsi né di chiedere aiuto. Dopo essere stata curata in ospedale, la vecchietta non pote fare altro che pentirsi dei suoi pregiudizi nei confronti del pitbull e ringraziarlo dal profondo del suo cuore. Senza di lui, probabilmente non potrebbe nemmeno raccontare questa storia. In un solo istante, questa anziana signora non solo superò il suo astio verso i cani, ma anche i suoi pregiudizi nei loro confronti. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.